Allora, mettiamo il modelletto, così, passo dietro, apri la bocca, apri, chiudi, e immobilizzato. Le reti si sono modellate, quando ovviamente io non lo utilizzo, il vantaggio di immobilizzare così è questo, prendo, piego, piego, e lo tengo nello zaino, oppure... Posso prendere, piegare, piegare, lo metto in una tasca, oppure sono in emergenza, non so come fare, non so com'è, ho un braccio da... Non ho stecobende... ...peaffa, e lo tengo. ...